Eeeh, ciao cari, sono Atrix, signori bentornati cari nel canale, torniamo su The Marvel Snap Ieri sono usciti degli Oda capi che hanno completamente modificato il gioco Cioè, sono usciti degli Oda che hanno colpito tantissime core card Ovviamente ve li potete riprendere su internet, ve li potete riprendere direttamente dal VOD di ieri Ora, piano piano, cercheremo di capire come questo meta si evolverà E soprattutto, raga, cercheremo di capire se effettivamente le modifiche apportate dalla Second Dinner Hanno effettivamente reso delle carte più o meno giocabili Oggi, anche perché tendenzialmente è una carta che abbiamo utilizzato Poi, ambadonato lì, utilizziamo per l'appunto la carta del Season Pass È la prima volta, dopo tanto tempo che accade, che una carta del Season Pass È una carta tendenzialmente inutile Oggi, nel mazzo che vi propongo, ovviamente oltre a capire se Gigamesh in realtà Può godere di quei più due punti forza Ed essere quindi una carta che vince tranquillamente da solo la Location Perché è quello che deve fare per l'appunto Gigamesh, no? Che era un po' quello, raga, che faceva il tempo Blob Vediamo, ovviamente Anche grazie ad alcune altre carte tipo Shanna Che ieri sono state baffate Se questo mazzo può essere, appunto, un mazzo in grado di poter imbenzierire gli altri all'interno del meta Prima di iniziare, ovviamente Gabi, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video Di seguire il canale E oltre a questo, in realtà, c'è poco che tu possa fare Io mi accontendo così Allora, capo, il mazzo, come vedi, è un mazzo classico Ovviamente è un kazoo È un mazzo che si basa, ovviamente, sul baffare i pezzi Travide gazzare, travide blue marvel Ovviamente è un mazzo che punta, ovviamente, anche al clog Cioè, noi vogliamo, ovviamente, cloggarci Per dare anche adito a carte come Dazzler Poi, ovviamente, lo vedete Da 5-7, passa 5-9 Gigamesh è una delle nostre carte di chiusura Gigamesh ultimo turno Ovviamente, Gigamesh Humming, Gigamesh Squirrel Poi dipende anche un po' da quali troppo non abbiamo pescato All'inizio della partita E deve essere una giocata che tendenzialmente fa un buoto di punti Ovviamente, quale so, qual è Qual è il problema di questi mazzi Qual è il problema di questo mazzo dello specifico L'abbiamo detto un sacco di volte Lo ripetiamo Cambiamo la gamma e lo ripetiamo Ragazzi, il problema Tendenzialmente è che questo mazzo non ha counter tech Non ha counter card Scusami, counter, counter tech, non vuol dire niente Il fatto che questo mazzo non abbia counter card Vuol dire che molte volte Voi non potete assolutamente giocare Determinate partite Poi, un altro mazzo di questo mazzo È che è un mazzo altamente counterabile Basta un Killmonger e siamo fottuti Diciamo che Senza Profix Visto che Profix è stato nerfato Probabilmente abbiamo un pochino più di margine Vediamo, vediamo Metropoli dei mostri Credo che sia altamente Incontestabile Io passerei qui È altamente incontestabile Perché probabilmente Gigamesh o Cool O Mockingbird No, sono le carte Che noi realmente vogliamo giocarci Più tre forze Le carte senza abilità Qualcosa bisogna giocare Andiamo di Dazzlerona Possiamo fare Shanna il turno dopo Into Kazar Poi andando vedendo Questo è interessante Abbiamo anche Blue Marvel Possiamo fare Shanna Kazar Snappere, regà Allora, il problema di questo mazzo è questo Voi, cioè nel senso O non snappate mai E quindi avete un cube rete o di merda Oppure se ogni volta che snappate Avete paura che l'avversario Possa avere qualche counter Al vostro mazzo Tanto vale non giocarlo Perché nel momento in cui Pensate O ritenete Che l'avversario possa avere Carte come Killmonger È normale che giocate sempre Col freno a mano Non giocate col freno a mano Ragazzi, liberatevi La mano è buona Abbiamo tutto Un curva Kazar Blue Marvel Gigamesh Non abbiamo Kazar Vabbè, non è un problema Abbiamo Cioè, non abbiamo Blue Marvel Ecco, tipo Non bello Sicuramente non bello Facciamo sicuramente Il Kazarone Lui snappa Posso capire Facciamo il Kazarone E poi vediamo Abbiamo Eventualmente anche Demone in mezzo Che è molto forte Direi Kazar Destro Ho capito Sicuramente Shadow King Nella speranza che lui non cambi Il pezzo Allora Nikominoru ragazzi Può pescare O Squirrel O Mockingbird Va giocato Io farei Nikominoru Shadow King Demone Handman Ci prepariamo Ovviamente Per giocare Gilgamesh Sinistra Possiamo anche Non giocare Handman Cioè nel senso Il problema Qual è? Che se pesco Squirrel Poi Capito? Cioè se pesco Squirrel Sarebbe bello Giocare Handman Sinistra In modo da fare Poi Squirrel Gilgamesh Poi pesco Tre carte Man Vuoi che l'ultima Carta sia Squirrel Dai Credimi Io spero solo Che non sposti Dagger Capito? E questo è l'unico Mio grosso Crucio Sage Va bene Beast Non va bene Però L'importante Regà Che togliamo Dagger Adesso Da quella Forza Di lì Vediamo Mockingbird È buona Squirrel L'abbiamo trovato Il fatto che adesso È più forte fare Mockingbird O Squirrel Cioè non è comunque Squirrel Cioè l'idea Regà è fare Squirrel Gilgamesh Allora Posso dire la verità Non so se sto game Lo vinciamo Ma il mazzo È girato veramente bene Il problema è che È girato veramente bene E pure a lui Sta variante è da 700 Inutile che ti fai ricco Un po' cringia qua Scusatemi E Io collerei Regà Io collerei Anche se lui Ha una Sage Che vincerà la partita C'è veramente forte Vai Proviamo Il fatto è Se facessi Sage a sinistra Mi Supera Gilgamesh Penso di sì Perché è veramente Forte la sua Sage A sinistra Proviamo Momenti di tensione Non dovrebbe essere così Tesa Cazzo Cazzo Ma guardate bro Che sfiga Mamma Boia Mamma mia Regà È follia Il call che ha fatto Cioè nel senso Boia ma sto in live No Man è incredibile Questo call No Non sto in live Lui ha chiamato Vincendo di due punti A destra Perché io ne ho messi Solamente tre Gilgamesh È stato fortissimo E vabbè Però Mamma mia bro Alla 25 punti Di Gilgamesh Sono letteralmente Quello che serve Per poter dire Bro La carta è forte In realtà non so 25 punti Regà Ne so 22 Però se una carta Te gioca per 22 punti Boia Non è male Ovviamente La perdita La sconfitta Del game È perché Allaghi Cioè nel senso Sapete come è Marvel Snap No Cioè non è che Ci vuole fare troppo È questione di location Lui gioca lì Io gioco dell'à Se io giocavo dell'à Vingevo io Perché lui ha giocato De su Capito È un po' così Il sale nella pasta No Sapete Sapete Quanto si è reso conto Che ci hai messo il sale Ma ci hai messo Un zucchero E quindi dici No bro Come avendo sbagliato La pietanza Dobbiamo ributtare l'acqua Dimmi tu Se è normale Perdi una partita Perché il secondo campo È È trono Dopo aver giocato Squirrel Skill issue Allora Squirrel girl amore È una buona mano Io ti derasto Cioè nel senso Dai tranquilli 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 Non capita spesso Di avere poi Location back to back Che ti fanno concedere la partita Lemuria Molto bene Molto bene Dazzlerona Molto bene Secondo me Qua si può snappare Perché Niente È per lo stesso discorso Di prima Cioè Non siamo messi male No Non abbiamo una brutta mano Abbiamo una bella curva Approfittiamo Capito Stompiamo Ok Giocherai Nocturne Regà Perché Camartage Effettivamente Mi fa paura Devo essere onesto Infatti Gioca su Camartage Lui Togliamolo subito Togliamolo subito Oddio Gilgamesh è forte Però Boh Gilgamesh è molto forte Allora vi spiego Devo fare sicuramente Kazar E Il problema poi È Shanna Capito Cioè dove cazzo La gioco Potremmo far Kazar qui E Shanna in mezzo Sì è l'unica C'è un po' paura De Camartage Regà Non so perché Nikominoru Forge Nikominoru Forge Che cazzo È un destroy Ragazzi Se lo togliamo Va fatto ora Cioè se vogliamo Togliere il campo Va Va tolto No dai Vaffanculo Lo tengo Il problema Regà Se c'ha Killmonger Se lo tipo Ho perso Cazzo 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 Boia Ma veramente Vince con due carte Sto tipo Mamma mia bro Che zella Guarda quanti punti sto facendo Tra l'altro Bene Sti game Eppure Perdo Da bro Guarda che roba Killga Non è soddisfazione Perdo Bro Incredibile Cioè Follia Beh Cioè Allora Lo vedi però Qual è il problema Cioè A parte oggi Che becco solo fenomeni Posso dire bro Oh incredibile Solo fenomeni Man Guarda che roba Cioè Letteralmente Anche qui Unica location Non va a fare Quella in cui gioco Gilgamesh Cioè Veramente Folle Cioè che se io gioco Gilgamesh A sinistra O in mezzo Oddio sai che mi sa Che perdo lo stesso In realtà Perché qua Gioca per due E Che vedevo di bro Che vedevo di Che non ho trovato Shadow King Per Nimrod Sì Sì Però Cioè Io me ne faccio Un'altra E poi purtroppo Ancora una volta Debo Sanzionare Cioè Sanzionare Debo dire che sto mazzo Non va Perché fa schifo E tutte le volte Che qualcuno mi chiede Di giocare un mazzo Kazoo Poi se guardi I video passati Che faccio E i motivi Per cui i mazzi Per cui i mazzi Fan cagare Perché Non sono mazzi Sostenibili Non si leggono piedi Il mazzo Gira in maniera perfetta Eppure perde Non è una cosa Capito Non è una cosa normale Bro Qui io non posso Far nulla Bro Passo In tu passo In tu passo C'è mondo assassino Passo fino a turno 3 Dai Ok ora in realtà Posso giocare Però Però non sembra Una bella situazione Capo questa qui Kazar sicuramente Sì però Cioè Tra un po' Mi arriverà la batostona E Forse Kazar sinistra In mezzo volendo Possiamo far Shadow King No? Ciclope Ok Mamma mia Facciamo Nico Cool Nico ho preso ovviamente Il peggiore Ho preso veramente Ragazzi Il peggiore Degli outcome Ma va bello stesso Vediamo Cersei Che evolve La cosa Che da Nimrod Quello che stiamo vedendo Ragazzi È Aberrante Questo è buono Questo è buono Questo dovrebbe Questo è snap Ok Eh Sì è vero Ho snappato tardi Però Che devo fare Ho snappato tardi Ho snappato tardi E che devo fare Prima di due game Ho snappato le turno Uno E alla fine Ce l'ho presa nel culo Hanno lasciato Free L'unica location Ho messo Gilgamesh Man Fenomeni Stamattina Becco Ragazzi Fenomeni Direttamente dal server Americano Qui Ho passato i primi due turni Poi ho giocato Squir Cazzo Non mi sembrava Diciamo Un grosso snap È anche vero Che L'avversario Ma che stava A giocare Per il resto Il mazzo Comunque è divertente Ma questo Ve devo dare ragione Cioè da ragione Ve lo devo dire Cioè il mazzo È sicuramente Molto simpatico Molto divertente Io purtroppo Non posso non snappare Quando c'è l'unico pesco 2 È un mio limite Mi dispiace ragazzi È troppo forte Va bene Un gubbo Maledetto è subito Va bene Iniziamo un attimino A modificare Man Il win rate Di questo mazzo Iniziamo a portarlo Su un win rate Umano Ok 355 Va bene Peccato che ho perso 8 cubi Quindi quella È stata una bella affondata Peccato 8 cubi di 2 punti Pensa quanto Poteva cambiare Il mio mindset Avessi vinto La prima partita Di questo video Adesso ragazzi Sarebbe stata una festa E invece no E invece no E invece no Pensa un po' Che testa Niente Man Oggi Il mouse Continua A scaricarsi Cioè Che vede Snap Regà Nico pesco 2 Snap Poi Sì Lui mi contesterà Castello Sti cazzi Ma se non mi contesta Castello Sti cazzi Lo stesso Non è un grosso Problemo Nico Miloro Pesco 2 E snap A casa mia Vabbè Yotunheim Yotunheim è veramente Una merda Ma in realtà Manco troppo Facciamo Squiroli in mezzo Va bene così Va bene così Capo Ma lui vedo Che c'ha carte Da cagà Complimenti Va bene Possiamo andare Aggressivi Con Mockingbird Regà Perché Mockingbird Probabilmente Mi dà la vittura Sul castello No? In teoria Però è anche vero Che potremmo Fa Shan Oppure potremmo fare Nocturn Per cambiare Yotunheim Prima o poi Ste carte Vanno giocate Allora io farei Possiamo fare Mockingbird adesso Oppure possiamo fare Nocturn Adesso Perché Regà Yotunheim è una merda No è troppo forte Mockingbird E prende un'energia Regà dai Lo sapete Miss Marvel Ho capito Miss Marvel Potrebbe essere Problematica Però è brutta Come è presa Secondo me Miss Marvel Sicuramente Blue Marvel Qua Dove abbiamo Giocare È troppo forte Oppure possiamo Faccazzar Per continuare A avere L'energy In mezzo Però poi Shanna Regà Fa a cagare Capito Eh Sto turn È un po' tosto Sto turn È un po' tosto Capo Ehm Blue Marvel Dai Sto convinto Però La verità Ehm Nocturn Anche qua Vedi Dovremmo giocare A cazzar Io dovrei Mena merda Però Vai Regà Sono disperato Non so che fa Forse Facciamo Cool Cool Almen Proviamo Cool Almen Problema Ragazzi Creven Va a sinistra Capito Perché Se Creven Va a sinistra Non posso Fargli Shadow King Ed è Un problema Quindi L'importante È che Creven Mi vada In mezzo È un piccolo 50 e 50 Che abbiamo Perso Ovviamente Stai D'han perso Urca Ragazzo Mio Digamesh Fatto Ragazzi Che io mi ero Sedappato Questa Capito Cioè È troppo Forte È troppo Forte Questa roba Cazzar Tra l'altro Mi dà anche Dei puntarelli Qui Che magari Lui non Si aspetta Mi Glug In mezzo Mi fa Vincere In mezzo Capito Rebuto Questa play Troppo forte Per non falla A sti cazzi De Gilgamesh Oppure Devo fare Gilgamesh Ovviamente A destra Faccio Gilgamesh A destra Secondo me Fa più punti Comunque Shanna Cazzar È molto più Consistente Come play Capito Comunque Se lui Sposta Vision A sinistra Non vince Con Creven Se Creven Fosse lato In mezzo Avrei fatto Shadow King In mezzo Quindi avrei fatto Shadow King In mezzo Poi avrei fatto Glicamesh Destra Perché avrei tolto Un sacco Di punti A Creven Peccato Per Yotunheim Non sono riuscito A giocare Nocturne Secondo me Abbiamo giocato Ottimizzando Sempre il mana E questa cosa Secondo me Ci premierà Credo Vediamo Dottor Doom Questo è Dottor Doom Ok Ok Parte il fatto Che se era Dottor Doom Perdeva Ovviamente Magneto Ma il magneto è veramente cringe Bro, il magneto è veramente stupido Cioè il magneto è veramente stupido Come cazzo si aspetta Come ti aspetti di vincere con il magneto destra Ma è assurdo sta roba qui Cioè, ok A parte il fatto che stava per perdere pure destra Perché comunque noi abbiamo messo 13 monti destra Guarda che bello essere due varianti Comunque, sono veramente un cretino Ma, cioè, magneto destra non vince mai Al massimo sposta visione sinistra, no? Cioè, se vuoi provare a fare la trittigata Devi spostare visione sinistra Anche perché se sposti visione sinistra Sinistra la vinci Perché fai 14 punti più 5 Però, poi vabbè, perdi destra Però, perlomeno, bro, ci hai provato, capito? Cioè, così invece no Cioè, Mir, così no, capo Regà, allora Il mazzo funziona E questo è evidente E si è visto anche nelle partite in cui abbiamo perso In realtà no Ghirigamesh a boom 20-25 punti Dovete stare semplicemente attenti Perché il mazzo è altamente predittabile Infatti, entrambi i giocatori Delle partite iniziali Mi hanno predittato molto bene In realtà mi hanno predittato pure troppo bene Però è quello in alto discorso Belli miei Noi ci vediamo oggi Sì su Twitch Alle ore 15 Già che è venerdì Continuiamo a provare un po' di carte otate E niente Del mentre Un buon proseguo di giornata Un grosso abbraccio E bella Un grosso abbraccio Grazie a tutti Un grosso abbraccio